Bravo sei, in silenzio radio con l'occasione poi passate in descrizione dove troverete tutti i miei codici per risparmiare una marea di soldi per l'acquisto di videogiochi, abbonamenti, giochi digitali per pc, xbox e playstation grazie alla mia collaborazione con Eneb troverete invece il mio canale di telegram dove troverete invece tantissimi sconti su smartphone, tablet, roba da gaming per assemblarvi il pc, roba, cuffie, chi più ne ha più ne metta troverete tantissimi sconti andatevi poi ad iscrivervi partiamo innanzitutto con tutte le ultime novità che riguardano Warzone Mobile e poi ci buttiamo a capofitto dentro la notizia del giorno sembra che la season 2 sarà veramente ricchissima di novità chissà se Activision finalmente si darà una svegliata partiamo innanzitutto con le novità di Warzone Mobile dove praticamente già stanno arrivando più notizie dei giochi principali MW2 e Warzone 2 il profilo ufficiale infatti Twitter del titolo ha amministrato la nuova interfaccia di Warzone Mobile vi ricordo che il titolo è giocabile soltanto in accesso anticipato nel territorio australiano oppure se volete aggirare il sistema tramite la VPN il prossimo aggiornamento aggiungerà l'armaiolo quindi il gunsmith insieme a modifiche e ottimizzazioni dell'interfaccia utente troveremo inoltre la funzionalità social cross game che ci permetterà addirittura di chattare con i nostri compagni di squadra su qualsiasi dispositivo indipendentemente da dove si trovano i nostri amici se su PC, su dispositivi mobile o su console la dichiarazione appunto dell'account ufficiale di Warzone Mobile è stata l'armaiolo dovrebbe far parte del nostro prossimo aggiornamento a rilascio limitato confermeremo più tardi una volta a ridosso della data inoltre hanno riportato importanti dettagli su quello che sarà appunto il titolo hanno dichiarato che il multiplayer è in realtà una modalità aggiuntiva per Warzone Mobile sebbene lo supporteranno con mappe e funzionalità la Bat Royale sarà l'obiettivo principale e otterrà un numero maggiore di aggiornamenti non ci sono ancora notizie su altre mappe mobile per la Bat Royale hanno dichiarato per ora sono concentrati al 100% su Verdansk ma hanno ancora molte novità e molti aggiornamenti in programma per questo 2023 non ci sarà il crossplay tra Call of Duty Warzone 2, Modern Warfare 2 e Warzone Mobile tuttavia molte funzionalità saranno condivise come quella che abbiamo visto prima del funzione social e della progressione incrociata altre informazioni sulla prossima versione limitata arriveranno molto presto sul fatto del rilascio su altre regioni prima del rilascio globale fissato a maggio 2023 vi ricordo fatevi la pre-registrazione sullo store Android e iOS ed inoltre hanno dichiarato che cercheranno di ottimizzare sempre di più il gioco per ampliare appunto la gamma di dispositivi mobile che permetteranno di giocarli quindi arriveranno maggiori notizie più a breve ma su Warzone Mobile ieri ha parlato Sean Webber che è un importantissimo insider del settore che abbiamo visto come in passato si sia rilevato molto affidabile sull'X di Call of Duty e ha dichiarato che la mappa Rebird Island è in arrivo appunto sul titolo mobile innanzitutto ha dichiarato che molte altre regioni saranno aggiunte a breve nella alfa chiusa Rebird Island starà arrivando e ci saranno aggiornamenti anche dei contenuti sulla modalità di Team Deathmatch molti di questi cambiamenti arriveranno con l'inizio della stagione 2 di MV2 e di Warzone 2.0 quindi praticamente fra poco meno di un mese perché poco più o meno di un mese? perché è stato confermato ufficialmente, ve l'avevo riportato proprio in anteprima che la stagione 2 è stata rinviata ieri sera finalmente si è svegliata la Raveni, si è svegliata Infinity Ward si è svegliata Activision dall'etargo dell'inverno e dalle feste di Natale e finalmente hanno annunciato quello che vi avevo anticipato leggiamo bene tutto quello che sta per accadere perché oltre al fatto del rinvio della stagione 2 sembra che ci saranno veramente tante ma tante novità su entrambi i titoli la stagione 2 di Modern Warfare 2 e di Warzone 2 uscirà il 15 di febbraio quindi un rinvio di due settimane inizialmente era attesa per il primo di febbraio i nostri team stanno apportando varie modifiche basandosi sui commenti della community e io direi finalmente con la stagione 2 arriveranno nuovi contenuti ritroverà ritorno e ci sarà una nuova mappa di piccole dimensioni per Warzone 2.0 quindi finalmente tornerà la modalità ritorno all'interno di Warzone quindi la modalità rinascita all'interno di Almazara quindi modalità aggiuntiva ma soprattutto riusciranno ad introdurre la mappa di piccole dimensioni quella che avevo linkato alcune settimane fa e che ovviamente non posso mostrarvi più per motivi di copyright perché Activision ha stragrato canali e canali perché aveva fatto vedere quella mappa comunque a ridosso dell'uscita vi riuscirò a farvela vedere diversi altre volte quindi non vi preoccupate ragazzi che ci sarà appunto la possibilità di rimostrarvela in anteprima quindi finalmente riusciranno ad introdurre la mappa di piccole dimensioni a differenza di quello che si diceva recentemente che non sarebbero riusciti a nome di qualche insider quindi si prendono queste due settimane sicuramente per riuscire a recuperare il terreno perso su MV2 invece tornerà la modalità classificata insieme a nuove mappe multigiocatore quindi questa cosa mi fa ben sperare quando dice nuove mappe multigiocatore vi ricordo che the file di gioco è confermata al momento già il remake di Castle mappa che molti di voi sicuramente hanno giocato dal multiplayer di Call of Duty World at War poi ha dichiarato che ci saranno nuove modalità questo l'abbiamo visto come ad esempio il gioco delle armi che era stata sempre trapelata armi come ovviamente ogni season e molto altro continuo a seguirci per saperne di più quindi la cosa che mi fa ben sperare sono i nuovi contenuti per Warzone 2.0 con finalmente una mappa piccola e la cosa più importante è le modifiche che saranno basate sui commenti della community quindi una cosa molto importante sarà sicuramente legata al Gunsmith e io vi posso già dire ma sicuramente da metterci la mano sul fuoco che tornerà l'1 vs 1 invece ieri sera l'Infidi World ha annunciato le previste settimanali che saranno attive per una settimana quindi fino a giovedì prossimo all'interno di MV2 quindi nel multiplayer troveremo Shipment 24-7 più TR-1 quindi la modalità di veterano la modalità attacco informatico e la MOSFIT CDL su Warzone 2.0 a Battle Royale troveremo invece la Mini Royale terzetti mentre la classica versione Battle Royale in singolo coppie terzetti e quartetti squad quindi adesso dovremo soltanto attendere la season 2 per avere anche la modalità ritorno chissà se daranno anche notizie sulla modalità ma l'oppo anch'essa completamente sparita vi terrò comunque aggiornati fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensai di queste ultime notizie con l'occasione vi ricordo di supportare questo video che è molto importante 500 mi piace passate in descrizione Eneba e il mio canale offerte sulla tecnologia e noi ci vediamo con un prossimo video